Ciao a tutti da Vittorio, siamo tutti giustamente parlando del Bologna come la grande sorpresa del campionato. Bologna quarto in classifica, un Bologna che sta vincendo tante partite anche contro le big, è un Bologna che non è più da considerare una sorpresa, ma ormai è una realtà, una squadra che realmente sta lottando per il quarto posto. Domenica ha vinto uno scontro diretto importantissimo su rimonta contro l'Atalanta, sicuramente il secondo gol può essere stato fortunato, ma in Bologna ha vinto con merito contro l'Atalanta e molti per questo risultato in Bologna stanno incensando l'allenatore Tiago Motta. Motta sicuramente un buon allenatore, sicuramente sta facendo bene, ma secondo me non è lui l'artefice di questo successo del Bologna. È sicuramente un allenatore valido, ma secondo me come spesso capita in Italia non si va a fondo sull'analisi di un successo, ma ci si ferma veramente sulla superficie. Attenzione, non sto dicendo che Motta sia scarso, ma io sono convinto che l'allenatore è importante, ma poi in campo ci vanno i giocatori. E lo stiamo vedendo nel Bologna, no? Ferguson sta facendo un campionato, ma anche lo scorso anno, benissimo. Che dire di Zilze? Secondo voi il giocatore è migliorato perché è allenato da Tiago Motta, o era già forte di suo e semplicemente Tiago Motta lo sta facendo rendere al meglio. Ecco, sono queste le cose che vanno analizzate. Bisogna riconoscere che c'è qualcuno dietro che ha preso tutti questi giocatori e li ha presi a prezzi ridicoli, perché il Bologna sicuramente non può fare il mercato del Milan, dell'Inter, eccetera. Però è andato a prendere dei giocatori di grande qualità pagandoli poco o niente. Bene, secondo me il principale artefice di questo miracolo Bologna è lo stesso che ha costruito il miracolo Atalanta, lo stesso che tanti anni fa costruì il miracolo Chievo-Verona, non so se ve lo ricordate. C'è un direttore sportivo che ama lavorare in secondo piano, che non ama la luce della rimbalta, che però è bravissimo. Con il Chievo ha portato una squadra, un quartiere addirittura in Europa, con l'Atalanta ha costruito una squadra che puntualmente andava in Champions League e adesso si sta ripetendo miracolosamente con il Bologna. Attenzione perché da quando ha lasciato l'Atalanta, l'Atalanta non è più andata in Champions League e stiamo parlando di Giovanni Sartori. Già nel 2021 io parlai così di Giovanni Sartori. Tutti sostengono che il segreto dell'Atalanta sia l'allenatore Gian Piero Gasperini. In realtà è un altro il vero segreto di questo club, che adesso si ritrova a lottare per la Champions League ogni singolo altro. Non è Gasperini che, intendiamoci, è un ottimo allenatore, ma il vero segreto è Giovanni Sartori. Magari ve lo ricorderete, al Chievo, al Chievo dei Miracoli, portò un quartiere di Verona addirittura in Europa League, Giovanni Sartori. Come? Beh, i soldi non erano sicuramente tanti, ma Sartori era bravissimo a trovare giocatori di qualità a prezzi veramente economici. E l'ultimo esempio lo sta facendo adesso l'Atalanta, perché poi Sartori litigò con il proprietario del Chievo Campedelli, quello dei Pandori Bauli, e se ne andò dalla società e i percassi furono bravissimi a prenderlo subito e i risultati si sono subito visti. Sartori è bravo perché non si fa a tentare da soluzioni esotiche, ma va sul concreto, va su nomi pratici, nomi economici. Muriel, Zapata, sono tutti giocatori su cui altre squadre non hanno puntato. Prendete Iglitari, preferisce andare a prendere un giocatore della seconda divisione del campionato belga piuttosto che andare a prendere un Zapata che nella Sampdoria stava facendo bene. Sartori è un direttore sportivo bravissimo e infatti quando lasciò l'Atalanta io mi auguravo che la Lazio mollasse Iglitari e andasse a prendere Sartori, perché Sartori conosce tanto di calcio e soprattutto è un direttore sportivo che già ha avuto successo. Zilze chi l'ha preso? Lui, Ferguson, Buchema, Posh, Calafiori che sembrava un giocatore non di questo livello, insomma, sono tutti giocatori presi da Sartori, che lavora in secondo piano, che non ama la luce della ribalta, ma che porta dei risultati incredibili. Perché poi, io ripeto, Motta è sicuramente un buon allenatore, però poi in campo ci vanno i giocatori, tu puoi avere le idee calcistiche migliori del mondo, ma un conto è avere Zilze, un conto è avere Tati Castellanos, tanto per fare un esempio. Uno fa una valanga di gol, l'altro non segna neanche con le mani. Ecco, e non solo, poi il valore di mercato è importante, perché poi Zilze, preso a 8 milioni e mezzo, già adesso vale più di 30, per cui giocatore che il Bologna non credo riuscirà a trattenere, ma con cui Bologna farà una plusvalenza clamorosa, e se Bologna riuscirà ad andare in Champions League, ovviamente riuscirà ad alzare la sticella. Ma non è solo un giocatore azzecchiato da Sartori. Parliamo di Ferguson, giocatore che prima non conosceva nessuno, un giocatore che non solo segna, ma dà tanta qualità al centro campo. Ecco, purtroppo noi siamo molto superficiali, ci soffermiamo sull'allenatore, ma in realtà bisogna andare in profondità, perché io sono convinto, e non so voi che ne pensate, scrivendone i miei menti qua sotto, che l'allenatore è importante, ma il segreto del successo di una squadra è il direttore sportivo. Se azzecchi il direttore sportivo, poi tutto il resto è la conseguenza. Il direttore sportivo è quello che sceglie l'allenatore, il direttore sportivo è quello che prende i giocatori. Guardate l'Inter, da quando è arrivato Marotta, l'Inter ha cambiato passo. Non solo ha preso Simone Zaghi, ma lo scorso anno è arrivato in finale di Champions League, quest'anno sta vincendo lo scudetto a mani basse. Ecco, il direttore sportivo è il segreto, di solito, del successo di una squadra. Galassio ha preso Fabiani, che purtroppo senza offesa è un direttore sportivo mediocre ed è un yes man che fa quello che dice lo Tito, il Bologna è andato su Sartori e i risultati è che il Bologna investendo un quarto della Lazio è quarto in classifica. La Lazio con Fabiani è non in classifica e non è una coincidenza. Qui si vede il lavoro di un bravo direttore sportivo, mentre nella Lazio si vede il lavoro di un direttore sportivo mediocre. Io mi auguravo che Sartori potesse venire a Lazio, chissà, magari quest'anno dopo il successo con Bologna sarà pronto per nuove sfide e chissà, magari lo Tito capirà l'errore e andrà a prendere Sartori. Io ripeto, Tiago Motta è sicuramente un buon allenatore, ma il balzo in avanti Tiago Motta l'ha fatto grazie a Sartori, che gli ha preso una serie di giocatori fortissimi, costati praticamente niente e che adesso Bologna potrà rivendere a 5-6 volte il prezzo che gli hanno comprati. Direttore sportivo Sartori per me è il migliore o uno dei migliori in Italia e l'incredibile fatto che la Lazio non l'abbia mai portata a Roma è un errore gravissimo che purtroppo ci costerà carissimo. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scriviti un momenti qua sotto e noi ci vediamo domani con un altro video. Grazie. Grazie.